Ciao, oggi ho frequentato il corso memoria e cervello. È stata un'esperienza molto positiva che consiglierei e consiglierò ai miei amici. È un modo per imparare in modo pratico delle tecniche che sono convinto che potranno aiutarvi. Io per mestiere faccio anche docenza e devo dire che il corso non solo è fatto molto bene, è tenuto molto bene, ma dà risultati concreti che ho potuto sperimentare facendo esercitazioni pratiche ed è uno dei vantaggi sicuri di questo corso. Mi iscriverò ad altri, sono convinto che sarà un ottimo investimento. Grazie Marco.